musica amici buona giornata e siamo alla puntata numero 44 dell'edicola del trap oggi è giovedì 27 luglio dunque questa cavalcata di oltre due mesi si sta per concludere nella prima fase domani avremo l'ultima puntata in diretta poi da lunedì prossimo ci sarà comunque l'appuntamento alle 8 e 30 con video che saranno postati regolarmente alle 8 e 30 come se fossimo in diretta sul meglio di per lasciare l'appuntamento in questo periodo di riposo dell'edicola del trap o comunque di riposo attivo approfondiremo alcuni dei temi alcuni sono stati suggeriti da voi altri saranno esaminati come progettualità di questo nuovo esperimento comunicativo con uno spazio che è decisamente nuovo sia sotto il profilo dei contenuti sia sotto il profilo del dialogo e del rapporto con voi ecco e da un punto di vista tecnico perché man mano sta crescendo l'abitudine a usare il canale youtube va bene in diretta ma anche successivamente on demand così un po come siamo abituati da un po di tempo a fare ecco la prospettiva dell'on demand è quella che alla quale prima o poi accederemo secondo me un po tutti perché stiamo abituandoci ad avere i contenuti che vogliamo nel momento che vogliamo facendone la scelta ecco il vecchio concetto della televisione parliamo ad esempio della Rai degli anni dei primi anni della trasmissione canale unico o due canali che imponevano in un certo senso i contenuti beh oggi siamo arrivati prima ad una ampia scelta di tantissimi canali ed ora anche decidiamo e vogliamo l'ora in cui usufruire dei contenuti quindi la on demand la televisione on demand che del resto poi negli Stati Uniti ha già preso da tempo sarà praticamente il futuro ecco il concetto dell'on demand cioè la possibilità di vedere i contenuti quando e come vogliamo è probabilmente il concetto del futuro in tal senso l'edicola del trap rappresenta un po un mezzo nuovo e quindi dovremmo studiare durante il mese d'agosto come adattarlo alle richieste alle esigenze e al progetto oltre che essere un impegno particolarmente gravoso che faccio unicamente per il gusto di comunicare bene fatto questo primo pistolotto iniziale andiamo a vedere quali sono i contenuti della giornata odierna parleremo ancora di judo e poi vi spiegherò perché abbiamo un argomento del giorno è una straordinaria importantissima ricerca dell'università politecnica delle marche che potrebbe imprimere una svolta al mondo dell'alimentazione e arrivare alla produzione di farine soprattutto per quelle popolazioni di cui sentite c'è un enorme bisogno di alimenti ecco e questa è una ricerca fondamentale portata avanti dall'università politecnica delle marche e dall'università di udine poi abbiamo la favola la bellissima favola del nostro teologo gigi avanti una favola che non è per bambini ma è per adulti e per contenuti che sono sicuramente stimolanti abbiamo la giornata del cane randaggio pochi giorni fa abbiamo festeggiato la giornata del cane ma oggi c'è una giornata mondiale del cane randaggio che è l'occasione per fare alcune riflessioni e poi tante altre cose che vediamo insieme e allora io direi di partire subito con quello che io chiamo l'albanacco del giorno e cioè che cosa accadde negli anni passati il 27 luglio ed è chiaramente un ricordare cose che probabilmente o non sappiamo oppure che non ricordiamo certamente non ricordiamo che è stato il 27 luglio il giorno del 1794 quando la convenzione della rivoluzione francese ordinò l'arresto di Robespierre ecco come cadono facilmente nell'89 Robespierre 1789 era sostanzialmente uno dei grandi capi della rivoluzione francese e cinque anni dopo viene arrestato poi sappiamo come finì nel 1848 invece era il 27 luglio la battaglia di Custozza che segnò il fallimento della prima campagna sabauda del re Carlo Alberto di Savoia durante la prima guerra di indipendenza italiana nel 1921 e questa è una notizia importante per chi ha il diabete i ricercatori dell'università di Toronto guidati dal biochimico Frederick Banting per la prima volta, vi ricordo il 27 luglio del 21 isolano l'ormone insulina nel 29 i rappresentanti di 53 nazioni firmano la famosa convenzione di Ginevra dedicata alla regolamentazione del trattamento dei prigionieri di guerra una delle convenzioni forse più violata al mondo vi dico anche nello stesso anno nel 1929 esce nelle librerie italiane Gli Indifferenti il primo romanzo di Alberto Moravia nel 90, è il 27 luglio quando nel 1990, pensate, viene prodotta l'ultima Citroen 2 cavalli che è stato un simbolo di una certa epoca di cui avremo poi modo di parlare nei prossimi giorni e altra cosa di cui spesso ci si dimentica il 27 luglio del 92 quindi a pochi mesi dalla strage di Capaci e otto giorni dopo la strage in cui perse la vita Paolo Borsellino anche il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia in quegli anni davvero neri e nel 93, l'anno dopo e sempre il 27 luglio quando l'Italia è colpita da tre autobomba esplose quasi contemporaneamente intorno alle 23 a Milano ai giardini di Via Palestro e lì moriranno sei persone quattro vigile del fuoco un vigile urbano e un immigrato due a Roma danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio il Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano una notizia buona invece riguarda il 27 luglio del 2014 quando Vincenzo Nibali vince il Tour de France il settimo italiano a vincere il Tour ma prima di concludere questa carrellata ho scoperto una cosa abbastanza curiosa ecco il 27 luglio io eviterei di andare per aria di volare perché a parte il fatto che il 27 luglio del 49 è il volo del primo jet commerciale bene sentite qua il 27 luglio del 55 il volo L-402 diretto da Londra a Tel Aviv viene abbattuto da due MiG-15 dopo essere entrato per errore nello spazio aereo bulgaro muoiono 58 persone nel 1981 è il 27 luglio quando durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Chihuahua il volo Aereo Messico 230 esce di pista e provoca la morte di 32 persone nel 1989 è il 27 luglio durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Tripoli il volo Korean Air 803 si schianta a poca distanza dalla pista muoiono 75 persone e il 27 luglio del 2002 un caccia su cui si schianta al suolo durante una manifestazione aerea in Ucraina uccidendo 85 persone e ferendone più di 100 dunque il 27 luglio conviene stare con i piedi a terra bene allora detto questo allora prima di andare avanti come sempre una puntata al meteo a vedere quello che succede in Italia poi per quello che riguarda la regione Marche lo vediamo insieme alla fine ma intanto vediamo come è l'aria Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì e finalmente abbiamo davvero buone notizie a darvi sono una bella giornata di sole in tutta Italia e neanche particolarmente calda è arrivata aria più fresca anche al centro-sud e soprattutto i temporali forti dei giorni scorsi ormai sono lontani si sono spostati verso l'est Europa e così controlliamo la nuvolosità poco da segnalare bella giornata in sole cielo sereno poco nuvoloso in tutta Italia qualche nuvola ridosso delle zone montuose ma senza conseguenze e così se andiamo a cercare delle precipitazioni non le troviamo praticamente cielo sereno e quindi niente pioggia niente temporali per fortuna ci attende insomma un giovedì di bel tempo davvero in tutta Italia con clima più che sopportabile temperature non oltre 30 32 33 al massimo ma anche con poca umidità quindi si starà bene e al primo mattino anzi aria addirittura piuttosto frizzantina per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo e andiamo invece con la rassegna stampa vi faccio vedere i titoli principali di questa mattinata partiamo dalla Corriere della Sera che si interroga su quanto sta succedendo in Sicilia e allo scalo di Catania perché a dieci giorni dall'incendio la Sicilia è alle prese con il fuoco a tutti i livelli a dieci giorni dall'incendio ancora lo scalo non è operativo come ci si attendeva vedete i vigili del fuoco a terra sfiniti dopo due giorni di lotta contro gli incendi in immagine simbolo davvero un un plauso ai ai vigili del fuoco che come sempre sono in prima linea in questi momenti drammatici avete visto le immagini dei vari telegiornali su quanto sta succedendo andiamo avanti mutui conviene davvero il tasso fisso si chiede il Corriere della Sera e poi vediamo le altre notizie con le varie polemiche niente di imperdibile e andiamo avanti con uno sguardo adesso alla Gazzetta dello Sport eccola qui una Gazzetta dello Sport che adesso ci dice che non possiamo vederlo e quindi comunque vi anticipo non c'era assolutamente niente di imperdibile anzi andiamo invece all'Ansa Marche dove ci sono due notizie della valle per Tots crescita solida fiducia sul 2023 continua quindi si consolida l'ascesa dei Tots e vedete adesso invece Autodepo che è un antico metodrome al Summer Jamboree del Summer Jamboree parleremo poi domani perché sicuramente è un appuntamento che è diventato ormai storico e qui la polemica sulla pastasciutta antifascista organizzata in tutta Italia per ricordare la caduta di Mussolini e anche in questo caso ci si divide ecco la tendenza è veramente a dividersi su tutto abbiamo invece una notizia positiva pace fra Sgarbi e il comune di Ancona sapete che Sgarbi non aveva usato grandi parole nei confronti di Ancona adesso c'è la pace con il comune e la promessa di quattro mostre fino al 2025 tra l'altro anche una sul rinascimento adriatico dal 300 a D'Annunzio andiamo avanti con il cordiere adriatico e qui ancora una notizia dell'ennesimo incidente mortale tragico scontro tra auto e uno scooter muore un giovane di 32 anni scontro a Porto Sant'Elpidio nella statale nel tratto fra Porto Sant'Elpidio e Civitanova ha perso la vita un giovane di 32 anni che era in scooter diamo un'occhiata ancora il pesarese Matteo Giunta marito della Pellegrini io e Fede fra cinque mesi genitori ma di questo abbiamo saputo tutto eppure di più e ancora ecco invece una notizia che è interessante stazione marittima spinta dal governo Bignanimi uno studio per riaprirla ecco questo della chiusura della stazione marittima era stata un po' digerita male perché era la punta di quella metropolitana di superficie che avrebbe potuto portare e portava in effetti i pendolari sino al centro e adesso il sindaco di Ancona sta cercando di trovare il modo per riaprire questa stazione che era utilissima per i pendolari andiamo avanti adesso con il resto del Carlino di Pesaro e qui c'è la vera domanda che forse bisognerebbe porsi l'omicidio di Marina Luzzi la sorella era terrorizzata da lui in effetti quello che sta emergendo non è ancora chiaro il movente si sa soltanto che l'omicida è sceso al piano di sotto quando Marina Luzzi li ha aperto non ha fatto altro che spararle in fronte a brevissima distanza un delitto che sembra un'esecuzione quindi non c'è rabbia non c'è discussione non ha fatto un fiato la vittima e evidentemente si tratta di una persona fortemente disturbata tanto che la sorella conferma che la donna era terrorizzata dal cognato e la domanda di fondo perché aveva un'arma e questa è una domanda che però riguarda tantissime situazioni del genere che abbiamo poi conosciuto in passato andiamo avanti con cronache maceratese overdose fatale a Civitanova quattro spacciatori denunciati vendevano eroina tagliata male e qui ancora altre notizie che vedete dalla nostra cronache maceratese in fuga 130 all'ora per macerata e non ha mai preso la patente arrestato un 19enne e qui invade la corsia opposta e si schianta contro un muretto e via così con le altre notizie che trovate su cronache maceratese chiudiamo questa rapida rassegna con Ancona Today stupro in piscina gli indagati risettano le accuse mai toccato quella ragazza e qui finalmente qualcuno si accorge Alige Volpi oro nel fioretto femminile mondiale di Milano altro trionfo per il club schermayesi l'atleta senese si allena al club schermayesi si è imposta nel derby azzurro in finale contro Ariane Enrico in un podio tutto italiano completato da Martina Favaretto è importante che Ancona Today abbia ricordato la scuola tenistica schermayesi che ancora una volta si entra un importantissimo bersaglio qui il spacciatore fugge al controllo e getta via il borsello con dentro la droga griffata Ferrari in seguimento da film al piano ad Alcona aveva 19 anni bene io a questo punto direi che possiamo tornare al nostro programma al nostro diciamo così vicenda perché vorrei farvi vedere ed è una cosa che mi fa particolarmente piacere segnalare parlavamo di sport e io credo che sia importante valorizzare quelli che sono i risultati che noi abbiamo ottenuto nell'ambito sportivo e non a caso io vorrei farvi vedere queste immagini che riguardano Gian Carletti Gian Carletti che qui vediamo in una foto recente Gian Carletti è un judoka di Numana ha il campione italiano in carica e lui è stato assunto diciamo così dall'esercito perché il campione italiano di judo chiaramente punta a dei risultati importanti in vista delle prossime Olimpiadi e io credo che sia importante ricordare che questo ragazzo che io ho visto crescere a soli vent'anni è campione italiano assoluto e quindi per lui una speranza reale da parte di tutti della federazione e adesso anche dell'esercito che lo ha chiamato nelle proprie file restando in campo diciamo così sportivo si sta concludendo in questi giorni lo stage del maestro del maestro nipponico Yatsuyuki Hamada a Porto Sant'Empidio vedete le immagini trasmesse ieri vi devo dire che l'attenzione che lo judo sta raccogliendo a tutti i livelli è veramente particolare queste sono le immagini della lezione di ieri e del lungo stage che si sta concludendo a Porto Sant'Empidio con un numero veramente impressionante di cinture nere e di appassionati di questo sport che come abbiamo avuto modo di sapere con Corrado Crocieri non è soltanto uno sport vediamo infatti queste immagini che sono davvero eloquenti del maestro che sta impartendo lezioni tecnica ma anche da un punto di vista diciamo così tecnico sociale e motivazionale vedete che i partecipanti sono davvero tantissimi e questa è l'immagine finale della giornata con il maestro Crocieri al centro bene a questo punto passiamo invece a quello che vi avevo annunciato prima e cioè questa importantissima ricerca che sta portando avanti l'Università di Ancona io credo che valga la pena seguire con attenzione e questa mattina sconfiniamo nella scienza e direi anche un po' nel futuro abbiamo ospite e ospite graditissima la professoressa Deborah Pacetti Deborah Pacetti è una docente dell'Università Politecnica delle Marche è docente di operazioni unitarie di tecnologia alimentare e soprattutto è capofila del progetto Winfood un progetto molto interessante finanziato dalla regione Marche innanzitutto la ringrazio per partecipare all'edicola del trap ecco vogliamo intanto spiegare in parole povere che cos'è questo progetto sì buongiorno a tutti grazie per l'invito il progetto Winfood è un progetto finanziato dalla regione Marche nell'ambito della misura delle misure PSR ed è un progetto che mira a valorizzare lo scarto dell'industria agroalimentare in particolar modo mira a valorizzare quelli che sono i residui della lavorazione dei vegetali questi quando naturalmente le industrie lavorano questi vegetali per trasformare questi vegetali in surgelati che poi noi troviamo al supermercato purtroppo scartano quindi eliminano delle parti ma eliminano soprattutto delle quantità di materiale che sono perfettamente edibili che però magari hanno delle colorazioni particolari che il consumatore non gradisce per cui che cosa nell'ambito di questo progetto noi che cosa vogliamo fare vogliamo recuperare questo scarto che è perfettamente edibile quindi perfettamente consumabile per il consumatore e da questo scarto vogliamo trasformarlo in un ingrediente funzionale che sono appunto delle farine funzionali da utilizzare nella preparazione di prodotti lievitati o comunque nell'utilizzo da utilizzare come farine bioattive ecco questo progetto portato avanti finanziato dalla regione Marche portato avanti dall'università di ancora in collaborazione con associazioni agricole vero? Sì no è in collaborazione con le aziende abbiamo il partenariato è costituito dall'università politecnica delle Marche nello specifico dal dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali a cui io afferisco è in partenariato con l'università di Udine e con le aziende quindi l'azienda capofila è la Covalm insieme a Ortoverde e al Gastreghini quindi sono aziende marchigiane che hanno delle specificità particolari appunto Covalm e Ortoverde si occupano di lavorazioni di vegetali per surgelati e Gastreghini si occupa di panificazione prodotti da forno ecco probabilmente chi non è addentro a questi sistemi non si può rendere conto di quale sia il volume straordinario di scarto di queste lavorazioni un volume che potrebbe portare se la cosa fosse poi in maniera sistematica diffusa in tutta la nazione e non solo potrebbe portare invece ad una svolta in un certo senso nel mondo dell'alimentazione sì assolutamente cioè ecco consideriamo che il volume di questo scarto è un terzo del materiale quindi scarto adesso sembra una parola anche forte da utilizzare però effettivamente per l'azienda è uno scarto ma fondamentalmente come ripeto è un qualcosa di perfettamente edibile che viene scartato dall'azienda dalle macchine di lavorazione soltanto perché il colore non è perfettamente verde come nel caso dei piselli oppure il colore non è perfettamente rosso come nel caso dei pomodori per cui soltanto il motivo dello scarto è una questione soltanto fisica per cui è perfettamente edibile e costituisce un terzo come possono essere utilizzate queste farine ricavate da questo tipo di lavorazione nuova? attualmente nell'ambito del progetto noi abbiamo studieremo allora il progetto è iniziato il 18 novembre del 2022 finirà durerà tre anni nell'ambito di questo progetto noi lo studieremo applicheremo queste farine nei prodotti da forno di largo consumo quindi sperimenteremo panini pizze quindi prodotti largamente consumati oltre a studiare la possibilità di fare degli snack quindi degli snack che naturalmente richiedono delle tecnologie molto particolari quindi tecnologie alimentari particolari qual è l'estrusione per cui dovremmo valutare bene quindi dovremmo prima studiare tutte le caratteristiche chimico-fisiche di queste farine che otterremo per poter capire se possano essere applicate per degli snack e qual è la resa nell'applicazione appunto di prodotti da forno ecco dunque siamo in conclusione possiamo dire che da qui a tre anni dovremmo avere una risposta importante anche forse alle prospettive alle difficili prospettive alimentari di molte zone che sono in difficoltà sì assolutamente questo per noi sarebbe l'obiettivo l'obiettivo appunto del progetto è proprio di ottenere un alimento sostenibile partendo da appunto da un materiale che attualmente viene scartato e che però ripeto è perfettamente commestibile ma soprattutto è ricco di componenti bioattivi di cui il nostro organismo ha bisogno costantemente tutti i giorni quindi l'obiettivo finale è ottenere questi alimenti sostenibili alimenti bioattivi alimenti che possano aiutare appunto ad aumentare lo stato di benessere della popolazione attuale ma di tutte cioè della popolazione in generale quindi anche magari di popolazioni che attualmente devono fare attenzione appunto alla nutrizione bene io ringrazio la dottoressa Deborah Pacetti mi complimento ovviamente per questa importantissima ricerca che pone Ancona all'università di Ancona insieme a quella di Udine ai vertici nazionali di una grande scommessa e allora ci risentiamo non appena avete qualche risultato assolutamente sì assolutamente grazie grazie a lei di nuovo buona giornata grazie arrivederci come avete sentito una ricerca molto importante ora prima di ascoltare insieme e di riflettere sulla favola per adulti del nostro Gigi Avanti vi ricordo che oggi è la giornata mondiale del cane randaggio e allora un breve servizio una breve riflessione ve la propongo io le immagini che state vedendo raccontano la storia della piccola Tunita che il 17 gennaio scorso fece invasione di campo durante una partita del massimo campionato messicano Atletico San Luis Cruz Azul Football la cagnolina randagia entrò in campo senza essere stata autorizzata dall'arbitro tra le risate generali ma l'ala destra German Berterame la prese delicatamente in braccio portandola fuori e regalandole un sogno da quel momento infatti l'intera squadra di Berterame l'ha adottata facendola diventare la loro mascotte e una delle più abili nel dribbling e divenne il volto di una campagna che l'Atletico San Luis lanciò sui social adottate e non comprate gli animali una bella storia che però ha il rovescio della medaglia nell'abbandono che pur in calo continua a registrarsi in modo preoccupante anche in Italia ci sono quasi 600.000 randaggi nel nostro paese secondo una stima dei tecnici che creano oltre che inquietanti questioni morali anche problemi serie di sicurezza e di costi sociali profonde le differenze territoriali al nord l'abbandono è una rarità al sud invece piuttosto frequente le marche tra le regioni più affidabili ma nonostante questo sono circa 1300 i cani che ad oggi cercano collocazione la mancanza di una politica che incentivi le adozioni dei canili crea un ostacolo al ricollocamento di molti dei cani che spesso vengono ospitati a vita sino al 1991 i canili erano l'anticamera della morte per i randaggi che dopo una decina di giorni venivano soppressi grazie al cielo la legge del 91 ha impedito questa esecuzione di massa ma poi la strada è rimasta a metà se si pensa che mediamente sono poco meno di 70.000 i cani che entrano ogni anno nei rifugi e solo la metà viene prima o poi adottata così per quest'estate lanciamo una proposta a chi ha in mente di abbandonare il suo cane con questo spot di indubbia efficacia di abbandonare di abbandonare di abbandonare di abbandonare di abbandonare di abbandonare quest'estate se vuoi essere veramente libero e goderti e goderti le tue vacanze non abbandonare il tuo cane abbandona il tuo telefono niente più mail dal tuo capo alle 8 di sera niente più notifiche dai gruppi whatsapp niente più buongiornissimo caffè da parte di tua zia niente più leoni da tastiera su facebook niente più chiamate dai call center mentre stai pranzando goditi la tua libertà ecco l'abbandonate il telefono e non il cane prima di concludere vi ho promesso questa per chi vuole questa bellissima favola di Dici avanti vediamocela insieme c'era una volta al di là dei monti un villaggio dove vivevano raggio di sole e luna splendente in questo villaggio tutti erano felici e tutti vivevano bene perché quando un bambino nasceva veniva dotato di un sacchetto contenente dei caldi e morbidi cos'erano i caldi e morbidi? erano delle cosette piccole come il pugnetto di una bambina con due antennine rosse e avevano il pregio quando venivano scambiati tra le persone di fare stare bene le persone di farle vivere felici per questo le cose andavano bene nel villaggio di raggio di sole di luna splendente perché c'era questo scambio continuo di caldi e morbidi autentici tutti stavano bene eccetto la strega la quale viveva da sola in cima alla montagna e arrabbiata per non poter vendere agli abitanti del villaggio i suoi incantesimi le sue pozioni magiche pensavano nella sua mente di come fare a rovinare questa felicità di cui era invidiosa penso bene di conferire con raggio di sole che incontrò nel bosco mentre era a fare legno si avvicinò cortesemente e le chiese e gli chiese come vanno le cose raggio di sole nel tuo villaggio e con luna splendente oh vanno benissimo lo sanno tutti ci scambiamo caldi e morbidi le cose vanno bene tutti viviamo contenti felici ma non hai mai pensato che i caldi e morbidi a forza di scambiarli così con con tanta generosità potrebbero potrebbero finire potrebbero esaurirsi e con questa insinuazione se ne volò via sulla sua scopa raggio di sole rimase per un attimo perplesso preoccupato poi continuò nel suo lavoro fino al tramonto tornando tornando verso casa vide i suoi figli scambiarsi caldi e morbidi con i figli dei vicini e ancora fu preso da questo pensiero ma non ci pensò di notte mentre scambiava i suoi caldi e morbidi con luna splendente le disse senti un po' ma se questi caldi e morbidi che siamo soli di scambiarci dovessero un domani finire e con questa preoccupazione si addormentarono l'indomani mattina luna splendente convocò i suoi figli e ordinò loro di non scambiare più caldi e morbidi con gli amichetti i figli dei vicini perché questi avrebbero potuto esaurirsi sarebbero finiti quindi da quel giorno i figli di raggio di sole e di luna splendente non scambiarono più i loro caldi e morbidi con gli loro amici con i figli dei vicini questi non li scambiarono più con altri ancora con altri bambini finché un giorno un bambino morì poi un altro poi un altro poi un altro tanti bambini morirono perché non ricevevano più i loro caldi e morbidi allora la popolazione allarmata corse dalla strega per chiedere consiglio la strega consegnò loro un sacchetto sotto pagamento contenente freddi e ruvidi che lo dice la parola erano come i caldi e morbidi ma con delle antennine verdi e quando venivano scambiati tra le persone li facevano sentire male li facevano sentire tristi le cose al villaggio andavano così caldi e morbidi più nessuno quelli autentici freddi e ruvidi tanti la gente stava maledettamente male ma perlomeno non si moriva più un giorno un imprenditore di una multinazionale che arrivò in quel villaggio si accorse fiutò la situazione e impiantò una fabbrica per la produzione dei caldi e morbidi di plastica lo dice la parola non facevano ne bene ne male ma tanto valeva adattarsi al punto tale che la popolazione imparò a fabbricarseli da sé questi caldi e morbidi di plastica e quell'imprenditore se ne andò le cose nel villaggio andavano così freddi e ruvidi tanti caldi e morbidi di plastica tantissimi caldi e morbidi autentici nessuno un giorno arrivò nel villaggio una donna una splendida donna portata dal vento si accorse di una situazione insolita soprattutto vedendo nella piazza i bambini non giocare e chiese loro ma cosa è successo ma come mai non vi scambiate più i vostri caldi e morbidi o no dissero ce l'hanno proibito i grandi perché hanno detto che scambiandoceli in continuazione questi potrebbero esaurirsi potrebbero finire no no i caldi e morbidi non si esauriscono mai sono inesauribili figuratevi la gioia dei bambini al sentire questa notizia incominciarono subito a ridistribuire e a scambiare i caldi e morbidi come prima suscitando l'indignazione e la rabbia dei grandi i quali lanciarono una campagna di denigrazione contro questa signora che aveva osato tanto al punto tale che fu costretta ad andarsene e decretarono anche delle pene severissime nei confronti di chi avesse osato d'ora in poi scambiarsi caldi e morbidi quelli autentici non si sa come andò a finire poi la storia in questo villaggio se l'ebbe vinta la legge dei grandi le prescrizioni dei grandi le proibizioni dei grandi o la fantasia la spontaneità la semplicità la gioia dei bambini non si sa ma una risposta c'è e sta nel bambino che ognuno ha dentro di sé previsioni per oggi al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna bel tempo con cieli quasi sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni o velati nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti è tutto per oggi l'appuntamento come vi dicevo è a domani per l'ultima puntata di questa prima fase poi da lunedì ci sarà la seconda fase di cui parleremo comunque meglio domani grazie per averci seguito e a voi tutti più cordiale buona giornata grazie a tutti